I social non sono il problema, sono un amplificatore del problema. Io ho sentito, mi ha dato molto fastidio sentire usare a sproposito la parola arti marziali. Per gli orientali le arti marziali sono il buscido che si traduce da noi come cavalleria, cioè una serie di valori anche spirituali che consistono prima di tutto nel rispettare e nel proteggere i più debole. Queste non sono persone che proteggono i più deboli, sono persone che vogliono tutto e subito. C'è uno scrittore francese molto bravo che si chiama Morgan Sportes, che parlando delle gang che poi diventano, delle gang delle ballie che poi sfociano spesso nel terrorismo e seguono questi modelli qui, il libro suo si chiama Tutto e Subito. Ecco, questa gente qua è quella che vuole tutto e subito. La violenza è lo strumento più veloce per ottenere tutto e subito, per ottenere la fama, i soldi, la bella vita. Una volta c'era Pietro Maso che diceva io voglio fare la bella vita e ho ucciso i suoi genitori. Ecco, questa non è una dinamica tanto diversa. Questa è gente che sceglie la via più breve per avere quegli alberghi che fanno vedere nei profili Instagram. E' il vuoto che c'è prima, sembra una banalità il vuoto, però è quello che produce questa roba qui. Cioè non avere nulla, non avere nessun valore, nessun motivo per cui stare al mondo se non i soldi e la stanzetta dell'Amergo sul mare.